... Presentata questa mattina la 37esima edizione del torneo di bowling città di Napoli. Il torneo si svolgerà presso il centro bowling oltremare di Viale Kennedy a Napoli. Si terrà dal 13 al 21 febbraio. Una manifestazione sportiva di bowling è ormai diventata un appuntamento fisso della nostra città. È una delle manifestazioni più longeve che abbiamo in Italia. Dobbiamo ringraziare gli organizzatori per la costanza con cui riportano questa iniziativa qui a Napoli al bowling oltremare. Godiamoci questo bellissimo spettacolo perché sappiamo tutti che ormai il bowling non è soltanto un'attività di svago ma rappresenta un vero e proprio sport con grande fascino, con tanti atleti competitivi a livello nazionale e internazionale. Per cui pensiamo che veramente è una grande occasione per Napoli per ospitare un'altra grande manifestazione sportiva. Il città di Napoli raggiunge la sua 37esima edizione. Questo è un torneo storico che rappresenta un po' la storia del bowling sia campano che nazionale e forse anche europeo. Perché non ci sono pochi, forse pochissimi i tornei che hanno questa continuità. 37 anni sono tanti a rappresentazioni e a dimostrazione che operando bene si riesce a dare continuità alle nostre iniziative. Perché fare gli eventi è facile, mantenerli nel tempo diventa un po' più difficile. Noi con orgoglio continuiamo a presentare questo torneo al di là di tutti gli altri eventi che regolarmente organizziamo. Questo evento che apre l'anno sportivo almeno per quanto riguarda il bowling nella città di Napoli e che speriamo che anche questo 2010 sia un anno prolifico di risultati e di eventi e che conferma questo trend di crescita, questa positività che sentiamo nell'aria e che sembrerebbe veramente portare del bene a questa città di Napoli e dare effettivamente un cambiamento. Noi ci stiamo impegnando affinché almeno nel nostro sport il cambiamento ci sia e la città di Napoli possa dimostrare di contare a livello nazionale. Noi ci stiamo impegnando affinché almeno nel nostro sportivo